buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce oggi parleremo anzi parlerò di bene e di male il bene e il male sono assoluti o relativi esiste il male assoluto esiste il bene assoluto oppure sono tutti concetti relativi ne parleremo fra poco prima però vi ricordo che se apprezzate quello che faccio potete supportarmi abbonandovi semplicemente al mio canale c'è il tasto abbonati sotto tutti i miei video oppure potete aderire alla mia pagina patria link del primo commento allora bene e male allora partiamo subito da questo chiaro che in senso cosmologico in senso universale su questa terra semplicemente ci sono degli avvenimenti degli accadimenti per quanto riguarda del cosmo la natura la realtà non cambia niente qualunque cosa accada non esiste bene o male se un bambino viene investito da un automobile se un bambino viene volontariamente percosso e è ucciso per la natura per realtà non cambia niente è successo un fatto tra i tanti ok quindi in senso ripeto universale in senso cosmologico non esistono bene o male in natura ok e andando ovviamente nella natura di casa nostra quindi su questa terra per esempio potremmo andare in un contesto in cui vi sono leoni che rincorrono gazzelle ecco ma un leone che rincorre una gazzella e poi la la blocca e la sbrana cosa fa del male o del bene questa scena secondo voi rappresenta il male o il bene qualcuno potrebbe dire beh male perché comunque povera gazzella e magari risultare se la gazzella riesce a scappare che bello il bene ha trionfato ce l'ha fatta non siete così sicuri quel leone se non riesce a cotturare la gazzella rischia di morire di fame e non solo lui i cucciolini a casa che ancora non vanno a caccia aspettano il cibo e quindi uno potrebbe vedere la fuga della gazzella che riesce a farla franca come il male perché il povero cucciolo di leone tanto carino muore quindi certo catturare quella gazzella può essere costato bene per il leone ma male per la gazzella e può essere costato bene per la gazzella riuscire a scappare ma male per il leone il suo cuccioletto la sua suoi cucciolini quindi anche quanto riguarda la natura su questa terra per quanto riguarda il regno degli animali oltre che dei vegetali anche in quel caso secondo me non assolutamente senso parlare di bene e di male come concetti assoluti non esistono bene o male senso assoluto però cambiano a mio avviso le cose quando si parla di esseri umani gli esseri umani hanno un cervello molto più complesso esiste una psiche e allora secondo me lì cambiano un po le cose ovvero in che senso preso atto che in senso universale bene o male non esistono possiamo però parlare di bene o male applicandoli agli esseri umani quindi bene o male per l'umanità può esistere un bene assoluto per l'umanità qualcosa che oggettivamente è bene per tutti e in qualcosa che oggettivamente è male per tutti secondo me sì semplicemente perché esistono quelle tre quattro cinque cose ora non farlo l'elenco completo a me interessa farvi capire il concetto esistono alcune cose che oggettivamente vorrebbero tutti gli esseri umani cioè esiste un qualcosa che da tutti gli esseri umani può essere considerato un bene ma per tutti uomini di qualsiasi epoca e contesto geografico oppure magari cambiando di luogo o di epoca quello che oggi può essere considerato bene in realtà verrebbe considerato male secondo me esistono delle costanti oggettivamente immutabili per quanto riguarda la specie umana per esempio nessun essere umano vorrebbe essere all'improvviso colpito alle spalle picchiato aggredito fisicamente nessuno esiste un solo essere umano in qualsiasi contesto geografico storico che potrebbe dire ma questo però non è tanto male ma mi piace quasi essere accoltellato alle spalle no chiunque non lo vorrebbe quindi può essere considerato per la specie umana il bene assoluto e non relativo non aggredire non picchiare non prendere di mira qualcuno in quel senso perché ovviamente se tu se tu non vorresti ricevere questo trattamento allora chiaramente dovrei pensare che tratterò l'altro come io vorrei essere trattato nel momento in cui un qualcuno un qualcuno picchia aggredisce qualcuno fisicamente perché esistono no esistono persone che aggrediscono gli altri bene uno potrebbe dire beh vedi per quella persona evidentemente non è un male lo fa assolutamente no è un male anche per lui lui lo fa sapendo che è male non vorrebbe che fosse fatta la stessa cosa a lui quindi possiamo dire che aggredire sicuramente un male assoluto per l'essere umano ripeto stiamo parlando solo di specie umana quindi un bene assoluto per l'uomo poi per l'universo non cambia niente e quindi un bene assoluto non aggredire gli altri poi potete dire un'altra cosa quando si relaziona con gli altri esiste un essere umano del pianeta di quest'epoca o di altre che vorrebbe delle persone sleali di cui non potersi fidare quindi persone menzogniere bugiardi dire proprio di no o conoscere qualcuno che dice sì che bello mamma mia che interessante questo incontro finalmente ho trovato una persona bugiarda basta questa sincerità certo esistono persone che mentono ma quando un qualcuno mente sa che fa un qualcosa di oggettivamente riconducibile al male e di sbagliato perché perché lui stesso non vorrebbe che gli altri gli mentissero quando uno mente sarebbe sarebbe relativo considerare il male il mentire se lui fosse assolutamente indifferente di fronte alle menzogne dette a lui invece no chi mente si incazza se qualcuno gli mente quindi per esempio il mentire può essere considerato un male assoluto per quanto riguarda l'uomo e un bene assoluto essere sinceri se tutti fossero sinceri l'umanità starebbe meglio attenzione questo non significa perché non voglio essere frainteso che se una persona aggredisce qualcuno cosa più grave o se una persona mente allora questa persona è una schifezza in assoluto cioè quell'atto quella menzogna è un male poi quella persona potrebbe aver mentito solo occasionalmente e poi non lo fa più può avere mentito tante volte poi cambia e quella persona può avere tanti tratti una persona non è solo una cosa ovviamente però quell'aspetto lì è male non che la persona in assoluto sia male tu curra quella persona incarna il male no però in quel comportamento lì fa un qualcosa di male avete capito il mio concetto quindi non credo che per quanto riguarda l'essere umano si possa dire che tutto è relativo esistono delle cose che oggettivamente possono essere considerate mali assoluti per l'uomo e beni assoluti lo stesso uccidere esiste qualcuno che ammazza eh sì quindi vuol dire che in realtà non è oggettivo che che ammazzare sia male perché c'è gente che c'è gente che lo fa e no perché chi lo fa non vorrebbe a sua volta che altri riservassero a lui lo stesso trattamento chi ammazza sa di fare del male chiaramente io credo che a parte queste grandi cose il rispetto la sincerità il non aggrede qualcuno non uccidere potrebbe aggiungere anche la capacità di amare per un essere umano di qualsiasi luogo geografico ed epoca è più bello incontrare persone capaci di ascoltarlo di capirlo di non giudicarlo di accoglierlo o persone giudicanti che ti attaccano che ti disprezzano che neanche ti ascoltano non sto a dilungarmi per darvi la risposta quindi sicuramente essere capaci di amare è un bene cioè oggettivamente è un bene anche perché se tutti o la maggior parte fossero capaci di amare il mondo sarebbe un posto migliore il mondo umano io posso parlare semplicemente di umanità tutto qui alla fine la mia argomentazione è questa quindi bisogna essere consci consci che noi esseri umani siamo semplicemente degli esseri viventi con un cervello ok che nasciamo viviamo cresciamo e moriamo e una volta morti quello che è stato sarà solo fumo e all'universo non frega niente se un uomo o se tutti gli uomini si sono comportati in un modo o nell'altro su questo non ci pioca quindi il senso universal bene o male non esistono bene o male li inventiamo noi umani ok? questo è fondamentale noi umani consci di questa nostra invenzione ok? se vogliamo anche di questa nostra necessità possiamo dire però che ha senso dire la nostra specie è vero è un valore non uccidere è un valore essere capaci di amare è un valore essere sinceri semplicemente perché queste caratteristiche se diffuse renderebbero l'umanità un posto migliore che cos'è un valore se non questo? che cos'è un valore? un qualcosa che migliora la vita di te e della comunità tutti quei valori che non migliorano la vita e la collettività non sono dei valori sono delle puttanate infatti per me i valori che vanno oggettivamente considerati valori assoluti per la specie umana sono solo alcuni altri considerati valori sono delle stronzate se qualcuno introduce ahimè il valore della virginità fino al matrimonio della castità fino al matrimonio non sta a parma di un valore perché se tutti fossero vergine fino al matrimonio il mondo sarebbe un posto migliore no in che misura la virginità fino al matrimonio? migliora l'uomo e la società in nessun modo se le persone non si masturbassero perché qualcuno dice è peccato il mondo migliorerebbe? no quindi ci sono dei valori considerati valori che non lo sono affatto quindi per me i valori vanno messi tutti in discussione e vanno approvati, accettati quelli che di fatto migliorano la tua vita però quando io parlo di valori a mio avviso i valori non devono essere delle cose che si fanno ma delle cose che si è cioè non è che io faccio il sincero mi sforzo di fare il sincero io faccio il buono io faccio quello che non aggredisce poi per carità sì meglio se uno vorrebbe aggredirsi trattiene però davvero per me è un valore esaltabile quando tu sei quella bontà quando tu sei quella sincerità e combassa con la tua autenticità allora lì davvero è un essere umano quindi potrete facilmente comprendere che i valori da considerare effettivamente e oggettivamente validi non possono essere quelli calati dall'altro perché ci ha detti un fantomatico dio non possono essere dei dogmi a mio avviso devono essere filtrati dalla ragione credo molto nella possibilità di un'etica della ragione tutto qua fatemi sapere che ne pensate commentate se vi va e condividete il video a presto APS mi è venuta un'ultimissima considerazione qualcuno potrebbe dire ok ma se non esiste un fine ultimo la vita non ha senso non esiste un dio non c'è un premio non c'è una punizione non c'è un inferno non c'è un paradiso alla fine tu potresti dire ok effettivamente il tuo ragionamento ha senso la sincerità essere capace di amare un certo tipo di comportamenti possono essere considerati il bene per l'umanità per gli esseri umani e altri il male però alla fine cosa cambia? se uno sceglie la via di atteggiamenti considerati negativi quindi si comporta male rispetto ad uno che si comporta bene tanto poi muore e scompare che cambia tutto è vanità tutto è vacuo poi scompare chi se ne frega se fa del male tanto muore che rimane del bene che puoi fare agli altri ma certamente che non rimane nulla però io vi dico questo la vita è una miseria è una tragedia qualcuno ne è conscio pochi altri no ma poi è sotto gli occhi di tutti in modi diversi magari viene manifestata è sotto gli occhi di tutti la disperazione in misura diversa perché magari a qualcuno toccano sfighe più grosse allora cosa vogliamo fare? la vita è già questo noi vogliamo persino macchiarsi della responsabilità di aumentare la sofferenza degli altri io penso che un essere umano preso atto di questo in primis è lui contento se nel suo agire genera negli altri più sorrisi che pianti poi muori e scompare ma nel cui ora ti senti semplicemente sereno nel fatto che se la gente soffre non è per causa tua non aumenti la sofferenza degli altri e se magari l'hai fatto lo fai semplicemente c'è chi di non farlo più tutto qui devo dire molte volte noi imprechiamo contro la vita perché è quello che è però cosa imprechiamo contro la vita se poi noi siamo dominati da tanta miseria io penso che un essere umano che si rispetta cerca il possibile di migliorare umanamente per ripeto cercare il più possibile di migliorare o di aiutare a migliorare la vita delle persone che si incontrano non peggiorarla nel proprio piccolo commettendo anche errori ma penso che questa sia una via saggia da elogiare poi chiaro moriremo di nulla nulla di noi resterà però intanto qui e ora io penso sia bello poter essere persone che ripeto non con chissà quali gesti eclatanti ma nel proprio piccolo non fanno del male agli altri perché per me molto del bene non è tanto in cose che si fanno ma in cose che non si fanno se non attacchi se non giudichi se non menti beh fai già tanto per contribuire a non creare disturbo all'altro se poi sei anche capace d'amare sei anche molto spontaneamente capace di così addolcire arricchire la vita dell'altro ben venga ma sempre nell'ottica della spontaneità io non sono qui a professare questi atti di bontà di generosità in cui fuori del prossimo io credo che nel proprio piccolo se una persona cerca di fare quello che vorrebbe essere fatto a sé intimamente già il mondo sarebbe un posto assolutamente migliore di quello che è per quanto riguarda ovviamente la nostra società rimarrebbe la vita che è quello che è però perlomeno la società sarebbe migliore invece abbiamo una società che talmente uscena che aggiunge un'altra miseria alla miseria già presente un abbraccio se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina Patreon cliccare in alto a destra su become a Patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1 2 5 10 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda il gruppo